A qualcosa di storico perché vogliamo integrare il nostro modello di pensione completa, vogliamo dare al turista l'opportunità di costruirsi la propria vacanza in piena libertà, di vivere il territorio, di vivere la nostra città, di vivere la spiaggia e di poter, con un'unica opportunità di prenotare attraverso l'albergo anche una scheda, quindi tramite un'app, una pseudo pensione completa in giro per il territorio, oppure poter mangiare sulla spiaggia, oppure visitare le bellezze del nostro interterra, ma la novità è questa, una sinergia con moltissimi ristoratori, un'opportunità per molti albergatori che hanno deciso di eliminare la pensione completa, ma soprattutto è un'opportunità per il turista che finalmente può costruirsi la sua vacanza. Io credo che questo sarà un passaggio, un percorso, anche un cambio culturale che dobbiamo saperci giocare noi come albergatori, ma io sono orgogliosa di questo primo tentativo, io sono convinta che darà i suoi frutti, ma soprattutto ce lo potremo spendere non soltanto a livello nazionale, ma soprattutto sui mercati internazionali dove sono già abituati a vivere diversamente la vacanza.